questo è il telaio che vi dicevo che si trova a 1000 euro adesso nuovo il tarmac sl2 e questa non è mia la bici di un mio amico me l'ha prestata per farci il video per farvi vedere se vi piace questa colorazione questa era quella che vi ho detto nera e rossa poi dopo c'è l'altra tutta rossa che a me mi sa bellissima tutta rossa e poi l'altra blu e blu e bianca che comunque con la divisa mia che è rossa e arancione e nera non c'entra niente potrebbe andar bene questo come colore o quella tutta rossa ecco la modifica che vi avevo detto che è cambiato il posteriore no quello mio era tutto un pezzo questo solo due angoli ecco tutti particolari scrivete nei commenti quale colore vi può piacere e quale si intona meglio sulla mia divisa che vi ho fatto vedere che nera e arancione ecco la specialized tarmac sl2 questo è fornito il kit mille euro che comprende telaio forcella serie sterso e anche il reggisella dalla specialized questo qui che ha il zerta in silicone antivibrazione molto comodo questo adesso un modello sempre del 2010 2011 si trova in offerta a mille euro mille 1200 euro è un ottimo telaio grazie a tutti